Bella raga da TF Oggi raga ci avete mandato tanti video su Instagram I nomi sono qui, questi che vedete qua nel video Avremmo fatto un video su TikTok dove vi chiedevo dei video del sound delle vostre moto Se me li mandavate in DM Ce ne avete bombardato, veramente tanti Ne abbiamo ricevuti più di 100 video E quindi abbiamo dovuto fare una selezione e mettere i più belli e croccanti Uscirà anche un video su TikTok dove metterò i 3-4 più belli Però abbiamo deciso di farne anche uno qui su YouTube Così che potevamo diciamo prendere più video possibile E ci avete chiesto in tanti di farlo perché le moto raga sono veramente una buona Raga ci sono veramente marmitte che scoppiettano, che fanno fiamme Quindi direi di iniziare subito a vedere questi video croccanti E vi ho lasciate tanti commenti qua sotto Vi ho lasciato anche like al video E raga mi raccomando commentate qua sotto e diteci qual è la vostra moto migliore preferita che vedrete qua Esatto E andiamo Andiamo Allora partiamo dal primo che ce l'ha mandato Matteo È un Honda 125 4 tempi ma Ha una bella marmitta Scalvini in carbonio Terminale in carbonio Allora andiamo subito a sentire quindi il sound Porca troia Cazzo è una mitragliatrice Bello questo Rimettilo Bello questo Adesso ci accende le sigarette Matteo Matteo C'è del camionetto Se può mettere fuori il tabaccaio Porco dici Grande Matteo Pazzesca Poi passiamo al prossimo Abbiamo un TM 125 con scarico modificato Molto molto corto il silenzatore Andiamo a sentire l'audio Porca merda Qua sfiamma pure Sfiamma pure Porca merda Stai per terra No dietro è una macchina Si ma Ma guarda le fiamme quante lunghe Spettacolare sto TM Spettacolare Non lo voglio così Porca merda Si ma cosa Non l'ho mai vista Non l'ho mai vista Non l'ho mai vista Guarda adesso eh Fina qua giù Fina alla targa Guarda Guarda la cerba Guarda adesso Fina qua giù Guarda adesso Però c'è il motore indietro Tra un po' Bellissimo Porca merda Il TM è così? Mamma mia Mamma mia Non si tiene Questo è DN Ferrotti Tanta roba Il TM raga Scrivetelo se vi piace Perché a noi ci fanno morire Bellissimo Complimenti Complimenti raga Fategli complimenti qua sotto Perché è pazzesco Ecco Ecco Allora Giulio Giulio ci ha mandato Sto TM Dove non c'è il sound Però non potevamo non metterlo Perché raga Adesso vi facciamo vedere Sto TM È spettacolare È uno dei più belli Che io ho mai visto Allora Guardiamo i dettagli Porca merda Guarda la mascherina Con l'occhio a led Sì ma Uno Due Forcella notizzata Doro Bellissime Pancia bella Pancia specchiata Cerchi neri Con Guardiamo Cerchi in lega Cerchi in lega Cerchi in lega Con il cerchietto intorno Blu Violino Colore della moto Andiamo a vedere il video Nel mentre Paramani neri Boccetta dell'olio Come Pazzesco Guarda le grafico Uh Forcellone monobraccio Tra l'altro Non è Non è originale L'ha fatto lui È stupendo Forcellone come vedete È attaccato solo dal lato Si chiama sì Forcellone monobraccio Tipo i Ducati Esatto Tipo i Ducati Ma è pazzesco Come estetica Raga è una bomba Scriviti nei commenti Se vi piace Giulio C'hai una moto Assurda 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 Vediamo Continuiamo a vedere il video 125 Grafico pure Durex Durex Dietro 146 Scrivi nei commenti Giulio Se hai cambiato tu Il forcellone Monobraccio posteriore Oppure se c'è uscita così Ma le grafiche Giulio Oppure se te le sei fatte fare Personalizzate Le hai trovate così su internet Facci sapere nei commenti Ma Moto Io direi questo voto 10 Voto 10 Ma 10 più Bellissima Poi Passiamo Non vorrei passare la prossima Perché è troppo bella Troppo bella Però tocca Passare al prossimo video Un Fantic Dovrebbe essere un 125 E dei buchi qua Riconosco con Fantic Ok Fantic Con la Scalvini Sempre in carbone Terminai in carbone La scalviamo Domine sound De tutto il modo Se fa questa sinfonia Anche lei Ma che notte Porca troia Rifacciamo No E' illegale Una roba così E' illegale Ma te Albi C'è la foresta amazzonica Albi con sta moto Bellissimo Marmita Scarico La Scalvini Complimenti Che poi raga Noi l'abbiamo provato La moto con la Scalvini Però non stia amato Non stia amato Non stia amato Complimenti Albi Per la moto Perché è tanta roba Tanta roba Allora Questo video È di Filippo Non ci ha mandato Un video del sound Ma però Meritava Questo video Meritava Allora Abbiamo deciso Di metterlo Che cos'è Un TM Proviamo un TM Però il video Se ti ricordi Era un KTM Che veniva Da qua Giusto 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 Adesso quindi Lo guardiamo Insieme Guardiamo Allora Sì 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 Era questo Che arriva Il Kappa E lo tira su E lo tira su Così C'è Ma proprio Tirata la sprizionata E poi lo tira su Due tempi Così È pazzesco Complimenti Anche a Non so se era Filippo Che guidavano Però Complimenti Facci sapere Filippo Nei commenti Però mi sa di no Perché era un K Allora Mi sa che c'è un TM Complimenti Passiamo al prossimo Prossimo video Fantic 125 4 tempi Di Kami Attenzione ragazzi Tenetevi forti Perché questo è bello È vero È vero È bello Dei video Notate qualcosa Di strano Guardate il video Notate qualcosa Scrivete lui Guarda come spiamma La spiamma da lì Ha tolto Il silenziatore Ha tolto Tipo sei un pazzo Sei Ma in giro Ma sai Ho l'ha tolto Per mannaccio Il video Non lo so Ma Pazzesco Riguardiamo Perché se lo merita Si è Guardate in mezzo Dove spiamma Che pazzo Grandissimo È l'unoschiero Il terminale Il silenziatore Bellissimo Kami Sei il numero uno Ok Il prossimo video Andiamo a vedere Abbiamo qui davanti Un vento 125 Dera page RR Con doppio scarico Di vighe Di vighe Sentiamo Come suona Come suona Questo doppio scarico Il scarico è E se spiamma Emozionante Emozionante Sì sì È croccante Eccolo Ecco Continua Ma poi Un doppio scarico Che spiamma Ci vuole Voli 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 Cioè questo Siamo su un altro pianeta Siamo Veramente bello Vighe Veramente bello Bravo bravo Complimenti Vighe Per mezzo Perché spacca davvero Allora Ci ha mandato anche Un altro video E' lo scoppio E' più scarico E' passiva E' stessualmente Tanta 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 È felice Era calvanzato Era lui Raga Grandi Impressionante Grandi Grandi Adi Anche io Se ci avessi doppio scarico così sotto, facevo anche facce peggiori, cioè peggiori, più belle. Adesso ci ho mandato un video Teo, SQ, ok già è notte quindi già vabbè, guarda come sfiamma. Quelle fiammette che esci da lì, che stupende. Eccolo l'altro video da Scalvini. Questa è, ne accendi sigari. Ma che è? Non mi fai dietro, non mi fai dietro, non mi fai dietro. Questa è assurda, un TM, un TM. Oh, era gialla. Questo è un razzo, non è una moto, è un razzo. da chi parte, corri. Prossimo prossimo. Prossimo. KTM. Sentiamo, vediamo. Come scoppietta. Soprima più. Scoppietta. Soprima. Pensate strada. Ma, su strada. Teo qua c'ha proprio iniziato. C'ha mangiato i video più belli. C'ha iniziato con questi video, Teo grandissimo, scrivi qua sotto nei commenti qualcosa. ma, tanta roba. Sfiammano, sì. Tanta roba. Questi qua, i TM, quello lì. Per me è pazzesco, è pazzesco. Scrivetelo nei commenti se vi è piaciuto questo, ragazzi, perché è bellissimo. Il prossimo video di Filo ci manda un Fantic che sfiamma. Guarda caso sfiamma, vediamo subito. Vediamo. Cor rápido. Scrivetelo. Guarda, guarda, guarda. Come si acquistava l'amico. Per miseria. mah come si dà una come? Ma anduh? Ragazzi, ragazzi, dobbiamo, dobbiamo ritornar dietro quando l'amico ci ha messo la mano. Mammeno la mano ci ha messo pure però. Rivediamo ragazzi, ragazzi, guardate Ti ho riuscito Ti lo faccio sapere come sta la mano dell'amico tuo Ma se mi sveglia che giorni Sì, ma che stai divertendo E' troppo bello Prossimo Cristian ci manda Un video di una mazzurra Oh, bello Senti Bellissimo Come le tira, oh Le tira a schiametta Le tira a schiametta E' un 125 con la Giannelli E' bello Bel sound, complimenti Cristian Bel sound Quelle che schiametta E' pazzesco Prossimo video siamo qua in ambientazione Giungla Il video ci lo manda Pietro E' un KTM 125 a due tempi Due tempi Anche perché è KTM Due tempi Due tempi O fa in duro cross Vediamo 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 Sentiamo Sentiamo Una salita Oh, via detraverso Bello Bello Pietro Grandissimo Grandissimo Ma tutto Così Andava così Andava così Andava così Come sa che è salita Allora come viene su Bella è la curva Con la sfondina Deluso Ma poi KTM Ha detto che faccio Lo chiudo Ma no Ma no Che non lo chiudo Ma no Bello Complimenti Pietro Complimenti Prossimo video di Ube Che ha montato una slick Ha montato una slick Ma oh Slick Prossimo Osteriore C'ha fatta una frenata qua laggiù Tipo a chilometri Sgommando Questo mi sa C'ha fatto un bel burnout Ha deciso di mettere su una slick Dalle dura La slick Quando va dritto Lisce Quando va dritto Prossimo Complimenti Complimenti Ci piace Ci piace Ube Ste cose È un KTM KTM L'ignoranza Ci piace Esatto Allora Sentiamo il sound Sfiamo 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 È giorno È poi È giorno È giorno Sfiamo Allora come fuma Giorno Sfiamo Ma bene le grafiche Quelli che si E io Per viola Bellissimo L'aglio viola Secondo me L'ha verniciato lui L'ha verniciato sopra O grappato Qualcosa del genere Però In pandan con numeri Vediamo anche che il codino È stato grattato Quindi Ube È uno stunt Gratta il codino Se c'è altri video Mandaceli volentieri Li accettiamo Bello 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 Complimenti Complimenti Il prossimo è di Luca Abbiamo qui Un Honda CR Dovrebbe essere O 250 O 125 I modelli Quelli un po' più vecchietti Sempre a due tempi E andiamo a sentire il sound Andiamo a sentire Bello il cerchione Con l'onda Lo usavo per dire Bello Scritta onda dentro Il cerchione nero Pazzesco Pazzesco Bello Andiamo a sentire il sound Di quest'onda E' un po' più vecchietti bellissima a me piace tantissimo i cerchioni con lo scritto però questa quale non la tieni secondo me sta sempre su una ruota sempre su una ruota complimenti Luca perché Honda è veramente fantastico ok raga siamo giunti al termine con l'ultimo video video raga veramente pazzeschi siamo rimasti senza parole da quello che ci avete mandato sia Moto Belli sia Sound Belli è stato veramente figo registrare questo video bellissimo raga se vi è piaciuto questo tipo di video così che vediamo i vostri video che ci mandate raga lasciate un like, scrivetelo nei commenti mandateci altri video seguendoci su Instagram se volete siamo quasi a mille iscritti, quasi a mille quindi che devono fare? raga iscrivetevi, mandate il video ai vostri amici perché dobbiamo arrivare a mille entro fine anno esatto dai raga dai 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 sono veramente contenti di questo supporto allora raga ci vediamo mercoledì prossimo come ogni mercoledì alle 1.45 esatto e bella raga bella raga e bella raga